perfetto allora siamo live benvenuti a tutti i nostri ascoltatori benvenuto prima di tutto al professor la venia collegato con noi in diretta buona serata a tutti grazie mille professore per insomma aver accettato il nostro invito è un ovviamente un piacere è un onore avere un personaggio dove non è non è piageria verità insomma un personaggio del suo calibro insomma oggi professore parleremo con lei dell'inquisizione dovrei leggere per presentarla il suo curriculum professore perché devo dire un curriculum notevole accenno accenno soltanto al fatto che lei è professore associato al dipartimento di storia cultura e civiltà all'università di bologna e formazione posso dirlo da normalista e ha collaborato a all'edizione insomma con il professor prosperi professor adriano prosperi del dizionario storico dell'inquisizione e oggi parleremo di anche di alcune sue pubblicazioni non tutte perché ci vorrebbe tantissimo tempo voglio fare accenno soltanto in primis al libro che metto in favore di camera che è dio in uniforme cappellani catechesi cattolica e soldati in età moderna edito da il mulino quindi oggi parleremo anche di questo libro con lei professore ovviamente il macro tema che abbiamo individuato per questa nostra lezione è l'inquisizione abbiamo scelto questo tema perché chiaramente è un argomento come dire un po spinoso e che ovviamente è noto a tutti forse anche un'accezione giustamente per alcuni aspetti negativa ma uno studio ovviamente approfondito tramite le fonti ci permette ovviamente di capirne i significati capirne insomma la storia e anche gli strascichi se vogliamo se vogliamo dire in qualche modo e professore io non voglio tediare oltre i nostri ascoltatori le lascio subito la parola e partirei dal dal suo libro perché ci aiuta a introdurre il tema perché quando si parla ovviamente di insomma cristianità e violenza sembrano temi che sembrano un po stridere in qualche modo tra tra di loro e quindi le vorrei chiedere qual è il presupposto ideologico che porta al concetto di guerra legittima e guerra guerra santa violenza legittima e violenza santa prima di tutto beh intanto c'è un punto di tangenza in realtà tra la materia dell'inquisizione anche quella della guerra nella misura in cui l'inquisizione nacque nel tredicesimo secolo lentamente diciamo nella un arco di 55 anni in grosso modo mentre il papato convocava crociate diciamo così e l'inquisizione si servia anche di crociate cioè nel senso che l'eretico poteva essere inquisito ma poteva anche essere sterminato come il caso dei dolciniani e dei catari in alcune zone di quello che oggi è il territorio della francia quindi c'è un nesso che è quello della legittimità della violenza e della legittimità dell'eliminazione del nemico religioso certo ora la tradizione della guerra giusta la tradizione della guerra santa come spiego nel volume che ha fatto vedere prima che riguarda tutt'altro cioè riguarda come è nato il soldato motivato in età moderna ma il titolo che ho scelto per quel libro di un uniforme è un omergio a uno storico medievale Ernst Kantorowicz uno storico conservatore che poi finì nella sua vita negli stati uniti l'autore dei due corpi del re un libro importantissimo per chiunque studi storia sulla sovranità diciamo così o comunque sul corpo della sovranità il corpo immateriale e quello materiale della sovranità ecco Kantorowicz si occupò anche del problema della del diritto di uccidere sostanzialmente e dopo la prima guerra mondiale ebbe modo di riflettere appunto su 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 sul perché il soldato moriva per la patria il morire per la patria il propatria mori divenne un come dire fu uno rovello della riflessione di Kantorowicz morire per la patria è quello che ho tentato di vedere come trascolora dal significato religioso a quello nazionale e politico l'idea del combattere per una causa quindi questo è e lo faccio vedere attraverso la storia dei primi cappellani dei primi testi catechetici per i soldati prima di arrivare però a questa storia che inizia nel cinquecento cioè quando i cappellani militari si fanno stabili negli eserciti e questo avviene soprattutto negli eserciti di Carlo V prima e di Filippo II dopo come la religione entra come fattore motivazionale non per un singolo cavaliere ma per truppe più nutrite a partire dal cinquecento e come questo l'aspetto della disciplina religiosa del soldato si combina con la disciplina tukur del soldato che è promossa anche dalla tradizione neostoica incarnata da justus lipsius da un importante filosofo di fine cinquecento e nei manuali in genere viene trascurato ma che ha un'importanza superiore a quella di Bauden e di molti altri teorici più noti alla fine del cinquecento prima però di arrivare a questa storia ho tentato di spiegare in poche pagine che la tradizione della guerra santa e della guerra giusta non sono la stessa tradizione la guerra giusta viene elaborata diciamo in alcuni testi di agostino due epistole la cento trentotto e la centottantanove il contra faustum e anche alcuni pezzi del de civitate dei in cui agostino riprende cicerone sostanzialmente riprende le categorie con cui una guerra non è mera violenza e quindi c'è un diritto a fare la guerra e gli us ad bellum c'è un diritto a che riguarda come ci si comporta in guerra ius in bello e c'è un diritto con cui si chiude anche la guerra su cui ultimamente gli storici si soffermano moltissimo il ius post bellum che è una materia meno sondata delle altre fare guerra legittima significa fare un'operazione di riparazione di un torto intervenire per soccorso di alleato di un alleato o riparare diciamo una condizione alterata è un'operazione di giustizia quindi in cicerone nel della repubblica e lo è ovviamente nei testi di agostino dove ciò che agostino aggiunge alla tradizione stoica ciceroniana e ha un'idea giuridica della guerra giusta e l'intensio cioè il cristiano deve esercitare la violenza eh per agosti agostino è l'uomo che cancella diciamo così l'irenismo cristiano definitivamente legittima l'esercizio delle armi per i cristiani legittima la magistratura nel compito di colpire il male il male nell'ambito secolare ma anche il male nell'ambito religioso cioè il dissenso l'eresia eh e agostino sostanzialmente a formalizzare il diritto di punire l'eretico per la prima volta in modo abbastanza preciso nella storia della del cristianesimo e ovviamente riprende ripeto le nozioni eh ciceroniane aggiungendoci un aspetto molto cristiano che è quella dell'intensio cioè la guerra è un'operazione asettica come quella di infliggere la pena di morte da parte di un magistrato e la violenza deve essere esercitata dal cristiano in maniera asettica cioè senza nessun amore della violenza come bisogna andare in guerra non per amore della gloria ma per compiere un'operazione di giustizia fa scorrere il sangue ma solo perché tutto il sangue deve scorrere per ragioni di diritto per l'appunto la la l'idea di guerra santa invece ha una gestazione lunghissima per alcuni si può collocarla già diciamo nella fase di espansione dell'islam quindi dal settimo ottavo secolo in poi per altri si fonda invece su un importante testo il sermo admilites templi di bernardo di chiaravalle quindi siamo nel dodicesimo secolo dove si riprende invece una nozione biblica della guerra cioè l'idea che la violenza sacra esista si possa legittimare perché il dio degli eserciti può chiedere lo sterminio dei nemici come se si apre il vecchio quello che noi chiamiamo vecchio testamento nel mondo cristiano vedremo che la violenza si esercita come si esercita contro i cananei la esercita in una forma quasi da terrorista kamikaze sansone quando elimina i filistei nel tempio di dagon e la esercita giuditta contro loferne potremmo continuare cioè l'immagine biblica di un dio che guida le sue schiere le schiere di chi di chi gli obbediente diciamo così e ciò che sta al fondo della tradizione della guerra santa che viene rispolverata nell'epoca crociata appunto anzitutto per i cavalieri e poi viene volgarizzata nel corso dell'età moderna in funzione anti islamica e questo diciamo una lunga tradizione e anti ereticale di nuovo cioè le guerre civili francesi le guerre che sconquassarono l'inghilterra nel seicento la guerra dei trent'anni per citare ma anche la guerra tra quelle che poi diventarono i paesi bassi e la corona ad asburgo sono tutti fondati su un di più religioso chi contestò l'una e l'altra tradizione fu erasmo da rotterdam in alcuni testi molto importanti all'inizio del cinquecento che suscitarono un dibattito un vero vespaio nella tradizione cristiana e che portarono a una seconda condanna una seconda ereticalizzazione del pacifismo nella tradizione cristiana pacifismo rimase un fatto abbracciato soprattutto dalle minoranze dai quaccheri per dirne una o dalla seconda ondata dell'anabattismo ma non certamente dalle chiese ufficiali né da quella cattolica né da quella luterana lutero si pronunciò per lo sterminio dei contadini per esempio durante la guerra dei contadini in nome appunto di un fondamento agostiniano ma anche di un'idea di guerra santa e non lo fece neppure calvino di respingere queste tradizioni più controverso il fatto che la tradizione della guerra santa sia stata accettata da tutta la teologia cristiana prima e cattolica dopo perché la tradizione tomista diciamo era piuttosto perplessa sull'inbiego della categoria di guerra santa preferiva la categoria di guerra giusta lo dice tommaso da quino nella summa teologi e lo ripeterà francisco de vittoria il più grande teologo della cosiddetta scuola di salamanca cioè della scuola che si occupò anche di legittimare la conquista spagnola del nuovo mondo e lo sterminio volontario e involontario degli indigeni d'america che vittoria giustificò in due testi importanti che si collano tra il 1538 e il 39 non sulla base della nozione di guerra santa ma di guerra giusta soltanto si interrogò se lo fosse fino in fondo o meno quindi come vedete le tradizioni sono diverse la tradizione però della che legittima la violenza per i cristiani e la legittima a danno dei nemici della fede in una qualche misura è la stessa che fonda l'inquisizione che una delle due armi insieme alla crociata con cui si respinge si elimina il nemico per fede a partire dal tredicesimo secolo perfetto professore questa sua introduzione è stata fondamentale ovviamente il tema di oggi ho introdotto il tema di oggi appunto partendo da questa definizione perché ovviamente nel nostro immaginario ma non troppo sì diciamo che l'escamotage come dire è collegato al fatto che l'inquisizione al nostro occhio di diciamo non esperti della materia ovviamente fa coincidere la violenza con il fatto di propugnare le proprie idee e combattere diciamo gli eretici come diceva lei l'eresia è insomma parte integrante della storia del cristianesimo praticamente dalle dalle origini che ci siano le eresie come dice il nuovo testamento e come ribadirà agostino l'eresia serve a dimostrare la verità diciamo che non ha una specie di funzione esatto ma è quello che le volevo volevo chiedere professore per introdurre insomma il tema dell'inquisizione è diciamo noi facciamo genericamente nel nostro immaginario coincidere la repressione della dell'inquisizione diciamo strutturalmente con il momento storico in cui la chiesa di roma ha in qualche modo legittimato la sua autorità rispetto rispetto alle altre chiese però nel nostro immaginario diciamo l'associamo al medioevo e poi successivamente all'età all'età moderna in particolare diciamo in qualche modo come reazione della riforma alla riforma protestante quindi la domanda che le faccio professore quali sono i punti momenti storici che possiamo definire salienti per capire innanzitutto introdurre il concetto di inquisizione magari una domanda un po così pretenziosa però gli alzino troverò a rispondere in pochi minuti alle sue esperte mani gliela lascio sì più che le mani in questo caso dovrebbe essere esperta la bocca diciamo che intanto il termine inquisizio l'inquisizione non si chiamava inquisizione o perlomeno è un modo con cui noi la chiamiamo si chiamava in genero ufficio della fede ufficium fidei dovere della fede il dovere della fede era ovviamente cancellare i nemici c'è un inquisizione che noi chiamiamo volgarmente l'inquisizione medievale intanto la parola inquisizio vuol dire inchiesta partiamo dall'inchiesta un certo tipo di inchiesta l'inchiesta che si fece con una procedura che nacque come direbbe freud come formazione di compromesso tra il diritto romano e il diritto canonico entrambi il diritto romano riscoperto nel dodicesimo secolo il diritto canonico usiamo un termine tutto sto rozzo sistematizzato ma era tutt'altro che sistematico nel dodicesimo secolo a partire dal decreto di graziano di questo giurista e poi dalla raccolta dei dei provvedimenti papali quando il papato appunto dopo l'anno mille diventa l'autorità centrale anche nell'ambito del diritto nel cristianesimo latino le decretali cioè i provvedimenti in gran parte del papa o dei concili convocati dal papa quando si ricominciano a fare i concili no dopo l'anno mille concili ecumenici che però non erano più ecumenici perché non c'erano gli ortodossi ora dicevo link questo tipo di inchiesta l'inquisizio che non è una procedura applicata solo dall'inquisizione con la i maiuscola quella di cui stiamo parlando qui è una procedura che viene inventata anzitutto per fare inchiesta sul clero e la cosa che bisogna sottolineare che i tribunali dell'inquisizione agirano soprattutto contro il clero era un istituto di sorveglianza anzitutto del clero cattolico e lo divennero sempre più in età moderna e in età contemporanea poi ci torniamo magari sull'età contemporanea ora questa procedura prevedeva che la notizia del crimine potesse portare all'apertura di una causa di una causa per dissenso religioso per eresia ma anche per indisciplina non perché qualcuno formalizzava una denuncia in quanto persona danneggiata personalmente ma perché ex ufficio dall'alto un magistrato si si arrogava il compito di informarsi circa una notizia circa la mala fama di qualcuno la fama faceva da accusatore figurale diciamo così non era un accusatore un accusatore un accusatore in carne ed ossa ma lo era figurativamente nel diritto e quindi la mala fama permetteva a un magistrato ora ci torniamo di aprire un'inchiesta informativa a cui poi seguiva il vero e proprio processo ora questa procedura permetteva si basava poi si basò nel corso del tredicesimo secolo lentamente sull'uso di alcune regole bisognava avere due testimoni contestes che dicessero la stessa cosa questo vuol dire il latino perché diciamo così potesse continuare l'inchiesta aperta e la regina delle prove che porta che avrebbe dovuto portare alla condanna dell'indiziato che comunque avrebbe dovuto purgare comunque il solo fatto di essere sospetto cioè siamo nell'ambito di un'idea del diritto che non è quello della presunzione di innocenza e la presunzione di colpevolezza cioè il solo fatto che la mala fama esiste porta all'idea che questa mala fama debba essere purgata la questio rigorosa l'interrogatorio rigoroso cioè la tortura serviva appunto ad avere la regina delle prove la confessione personale dell'imputato sottoscritta al di fuori della stanza delle torture perché la confessione era necessaria e qui entriamo in un ambito che ci dice per esempio che il diritto inquisitoriale aveva una sfumatura penitenziale e l'ha sempre avuta non solo perché la parola confessione è la stessa in latino che della confessione auricolare confessione auricolare che viene formalizzata dal punto di vista dottrinale esattamente all'inizio del 200 quando nasce l'inquisizione si formalizza lo il precetto della confessione auricolare annuale nel concilio laterano quarto nel 1215 e nello stesso tempo si avvia una macchina che vuole la confessione del sospetto diciamo così come prova regina perché cosa per condannare una persona all'eresia per purgare la chiesa dell'eretico purgarlo magari con la pena del fuoco proprio perché la pena del fuoco era una pena purgativa ora questa procedura ripeto non fu adottata fu inventata intorno ai tribunali ecclesiastici a quelli dei vescovi ma anche come procedura di comunità chiuse diciamo le comunità monastiche più tardi anche quelle conventuali dopo che nacquero i conventi degli ordini mendicanti nel tredicesimo secolo ma come procedura poi fu adottata per i crimini eccezionali anche dalle magistratura secolari che risposero al crimine di lesa maestà divina l'eresia con la persecuzione della lesa maestà umana quindi del tradimento dei complotti dell'attacco all'autorità politica crimine gravissimo e altri crimini come la falsa monetazione crimini sessuali la sodomia e diciamo categorie speciali di crimini che potevano essere qualificati come enormi eccezionali e via discorrendo si usavano varie categorie giuridiche per isolarli questa procedura quindi viene adottata anche dai tribunali secolari e così sarà per gran parte dell'età moderna se voi leggete i dei delitti e delle pene di cesare beccaria che è l'atto di seppellimento di questa lunga storia del diritto che inizia nel dodicesimo secolo e finisce con la codificazione napoleonica beh vedrete che non beccaria non attacca soltanto i tribunali ecclesiastici perché quelle procedure erano comuni anche ai tribunali secolari era l'inquisizio di tradizione romanistica un certo modo di fare inchiesta in cui il magistrato agisce non per denuncia o accusa ma ex ufficio come magistrato inquirente magistrato che però è anche giudicante cosa che oggi per la nostra nozione di diritto è inconcepibile cioè chi faceva l'inchiesta giudicava anche metteva la sentenza cosa che oggi troveremmo orribile negli ordinamenti giuridici degli stati dello stato di diritto diciamo così bene l'inquisizio però diventa la procedura di una di una magistratura particolare che nasce nel tredicesimo secolo che l'ufficio di fede l'ufficio di fede che non dipende dai vescovi come tradizionalmente accadeva diciamo nella tradizione della chiesa latina e non solo latina sono i tribunali vescovili ad occuparsi di una serie di delitti e di peccati attraverso la propria curia la curia del diocesano la curia ordinaria e sono gli abati e più tardi i capi degli ordini religiosi non dipendenti dalla famiglia benedettina che hanno giurisdizione sui loro sottoposti o anche su un territorio ricordiamoci che i vescovi o gli abati erano anche signori territoriali nel mondo feudale in alcune aree dell'europa ebbene il papa però non si fida né dei vescovi né degli abati né di tutta la gerarchia ecclesiastica a partire dal tredicesimo secolo quindi in un momento di fortissimo rafforzamento dell'autorità pontificia c'è un primo atto che il dictatus pape ovviamente di gregorio settimo nell'undicesimo secolo ma c'è una seconda fase di rapporto di rafforzamento dell'autorità pontificia che soprattutto il papato di innocenzo terzo all'inizio del duecento e dei suoi successori ebbene lì il papato decide che deve avere magistrati di propria fiducia e quindi si inventa la delega pontificia e su questo che si fonda l'inquisizione con la i maiuscola sul fatto che un magistrato viene scelto dal papa con una lettera apostolica chiamiamola una bolla per volgarizzare viene mandato in un certo territorio dove si ha notizia che c'è dissenso e può valcare tutte le magistrature feudali secolari ordinari e vescovili il potere degli abbati più tardi il potere dei dei priori dei conventi degli ordini mendicanti è una magistratura soprattutto tutte le altre magistrature che non deve guardare in faccia nessuno può inquisire nobili e non nobili può torturare persino le donne a fatto che non siano incinte può agire diciamo al di fuori non di tutto l'ambito del diritto perché l'inquisizione formalizza un suo diritto nel corso dei secoli ma può scavalcare qualunque altra giurisdizione ordinaria l'inquisizione medievale dunque nacque nel momento in cui il papato si sentì minacciato da correnti che definì ereticali i catari i valdesi ma anche il ghibellinismo perché l'inquisizione fu subito uno strumento politico in mano al papato non ebbe giurisdizione su tutta l'europa funzionava a macchia di leopardo in alcune aree sì in altre no in altre non entrò mai in castiglia l'inquisizione non ci fu mai prima del quattrocento per dirne una in varie parti della francia non ci fu mai stessa cosa in alcune aree dell'impero persino in alcune aree della penisola italiana quindi fu presente soprattutto nell'area catalana in Provenza nel nord Italia in Bohemia in Austria ma non fu mai capillarmente un tribunale stabile spesso si disattivava addirittura nei momenti in cui l'emergenza ereticale cessava e il titolo di inquisitore diventava un titolo puramente onorifico come fu in alcuni casi nel quattrocento chi erano gli inquisitori? Erano per un paradosso i membri dei nuovi ordini religiosi nati nel duecento cioè prevalentemente ma non solo domenicani e francescani cioè i frati predicatori di Domingo de Guzman di San Domenico di frati minori dopo la morte di Francesco può sembrare un paradosso ma i francescani furono arruolati quasi immediatamente come inquisitori. Perché gli ordini mendicanti? Perché il papa si fidava soprattutto di loro perché erano appena nati e in qualche modo avevano un legame speciale con la curia pontificia che permetteva di fidarsi di loro. C'erano uffici stabili alcuni si stabilizzarono ma ripeto si trattava di una diciamo di un numero esiguo di sedi la maggior parte non ebbero sede stabile e si tratta comunque di aree circoscritte dell'Europa latina. Altra cosa è la storia dal quattrocento in poi prima della riforma protestante non dopo perché l'istituto invece che prelude alla formazione moderna delle inquisizioni è l'inquisizione spagnola. L'inquisizione spagnola e l'inquisizione per meglio dire di Castiglia e di Aragona nasce tra il 1478 e il 1482 perché un papa francescano Sisto IV a un certo punto permette a due signori che si sono sposati per superare due debolezze cioè Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona che erano anche parenti appartenevano alla stessa dinastia cioè i Trastamara e si sposano perché hanno problemi in casa tutte e due. Si sposano e hanno un territorio in cui fino al duecento soprattutto la zona di Valencia quella che oggi chiamiamo l'Andalusia era fortemente presente l'Islam un Islam non ancora del tutto cancellato dalla penisola iberica Granada l'Emirato di Granada dell'Emirato Nasride cadrà il 3 gennaio del 1492 islamici intanto islamici alcuni convertiti alcuni mal convertiti soprattutto aveva la penisola iberica e questo vale anche per il Portogallo una forte presenza ebraica la presenza sefardita perché gli ebrei chiamavano sefarad la penisola iberica. Gli ebrei sefarditi al contrario che in altre aree dell'Europa non erano stati cacciati come avvenne in Inghilterra prima e in Francia dopo non erano poco integrati nelle comunità come accadeva nell'area dell'impero e del centro-est Europa le comunità schienazite erano più povere di quelle sefardite erano più integrate anche di alcune comunità italiane anche se la comunità ebraica di Roma lo era molto e anche quella di Ferrara. Bene gli ebrei sefarditi furono costretti come gli islamici o a battezzarsi o ad andarsene. Questo processo si accelerò per gli ebrei prima che per gli islamici intorno proprio al 1492 nel momento in cui cade Granada agli ebrei che non si sono ancora convertiti che non hanno preso il battesimo si dà l'alternativa tra andarsene e o convertirsi. Molti di questi battesimi ovviamente furono coatti, indotti ma dentro le comunità sefardite esistevano anche conversos che invece erano sinceramente convertiti al cristianesimo. Lo stesso accadde in una misura più complicata da spiegare in due parole anche per le comunità islamiche. C'erano membri delle comunità islamiche che si erano convertiti al cristianesimo. Questa conversione verrà forzatamente accelerata dopo il 1492. All'inizio del 500 si dà anche agli ultimi islamici la possibilità o di convertirsi o di andarsene e dopodiché insieme ai conversos ebrei si allarga la comunità dei moriscos, cioè degli ex islamici battezzati. Contro gli ebrei battezzati e contro gli islamici battezzati nasce già all'altezza del 400 prima che si fondi l'inquisizione il pregiudizio che si tratti di gente mal convertita che di nascosto torna alla propria fede, al vomito come si diceva con un termine teologico, di fatto commettendo il peccato di apostasia. E allora serviva uno strumento che servì anche a regolare conti, servì a chi fomentava l'odio antigiudaico per avere uno strumento in mano con cui colpire le famiglie dei conversos bene integrate nell'elite. Si disse che anche Ferdinando il Cattolico avesse un po' di sangue ebreo nelle sue vene e lo si disse anche di Alessandro VI Borgia ovviamente quando divenne papa nel 1496. Ora cosa succede? L'inquisizione spagnola nasce quindi non contro la riforma protestante che non c'era ancora stata ma per controllare i conversos e nasce territorializzandosi cioè organizzandosi immediatamente in distretti, al regime furono 23 e badate non erano solo distrette della penisola iberica, erano distrette delle Canarie, delle Baleari, della Sicilia, della Sardegna, a Lima quando poi fu abbattuto l'impero Inca, a Mexico, a Città del Messico quando fu abbattuto anni dopo l'abbattimento dell'impero Asteco, a Cartagena d'India più tardi, con una giurisdizione che quindi si è stese anche alle colonie spagnole e che aveva una corte centrale, la cosiddetta Suprema, un inquisitore generale, il primo fu Thomas de Torquemada, celeberrimo per la letteratura ottocentesca che ne ha fatto una specie di modello del male, che era un converso, guardate bene, questo non deve sembrarvi paradossale, e che agiva con una nomina papale ma sotto le direttive della monarchia, quindi era un tribunale curiosamente lasciato in mano dal papato ai monarchi di quella che poi nel Cinquecento divenne la potenza egemone per 150 anni sul territorio europeo e in una certa misura anche su scala globale. Questa fondazione si ripetè in Portogallo, anche la corona portoghese degli Abish, Abis scritto, pretese qualcosa del genere, non lo ottenne facilmente, non erano così potenti portoghese o perlomeno lo erano nell'ambito economico grazie al traffico delle spezie, ma non nella curia pontificia, quindi ci misero più tempo ad ottenere lo stesso privilegio dei monarchi spagnoli, tra il 1536 e il 1547 anche l'inquisizione portoghese nasce, badate bene, non contro la riforma, anche se la riforma era già avvenuta e servì anche a limitare quella, ma al solito contro i conversos, in prevalenza ebrei, i cosiddetti marrani, i maiali, e contro i mouriscos esistenti in territorio portoghese. L'inquisizione romana invece nasce nel 1542 ed è un'inquisizione di nuovo pontificia, in cui non è solo il mandato pontificio, ma è proprio il tribunale della fede del Papa, teoricamente universale, in realtà poi limitato alla penisola italiana perché nella Francia, nei territori dell'impero tedesco, ammisero l'inquisizione romana e non la misero ovviamente negli spagnoli, nei portoghesi, nei loro rispettivi domini, ci avevano già la loro inquisizione. Ora il papato perché la fonda? In questo caso la fonda davvero perché ha paura della minaccia protestante e in genere del dissenso religioso che non era solo protestante nell'Italia del Cinquecento, nel giardino di casa del papato e allora sul modello spagnolo e portoghese si crea una corte centrale anche a Roma, una congregazione di cardinali che riorganizza le strutture periferiche, le distrettualizza e le stabilizza non in tutta Italia ma in una cospicua parte dell'Italia. Questo tribunale poi si convertirà a molti altri usi nel corso dell'età moderna, ma qui sì l'emergenza protestante ebbe invece fu fondamentale per spingere Paolo III a concedere a un cardinale che si chiamava Gianpietro Carata e che sarebbe diventato Papa Paolo IV nel 1555 la possibilità di avere una magistratura alle sue dipendenze feroce perché stava dilagando dalle Alpi l'eresia del mondo. Professore, le volevo chiedere facendo un attimo un passo indietro che ovviamente nell'immaginario nostro di un processo diciamo tipo ha influito in qualche modo il film insomma del nome della rosa o il libro. Il libro prima e il film poi, peraltro c'è stata anche una serie televisiva. Esattamente. Molto bello, molto bello. Esatto, su Netflix esatto. No, no, l'hanno trasmessa anche in chiaro, io non pago buona. Ah, in chiaro? Ok, perfetto. La RAI. Perfetto, ah sì è vero ha ragione. No, è una produzione alla RAI. Sì sì è vero, è vero, ho sbagliato io. Le volevo chiedere insomma nel nostro immaginario eh chiaramente il quel film o quel libro e quel libro hanno influito in qualche modo in particolare eh insomma viene rappresentata eh l'eresia di di Dolcino insomma eh anche in maniera un po' così ovviamente romanzata per per le necessità e per il tipo e per il non solo quella di Dolcino lì compaiono tutte proprio. È una specie di catalogo delle degli allarmi del Papa all'inizio del trecento. Sì è vero, ha ragione. Quindi io le volevo le volevo chiedere mh da ragionando facendo un attimo un confronto eh diciamo tra storia e fiction eh quanto eh diciamo di quel film o di quel e di quel libro eh anche della serie insomma. Di concreto eh cioè di 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 oggettivo dice o di sì esatto. Allora intanto l'inquisizione è sempre stata rappresentata in letteratura. Eh me ne sono occupato in un paio di studi minori c'è una tradizione letteraria che inizia con la fondazione del romanzo gotico a fine settecento. Anzi l'inquisizione è un elemento del romanzo gotico fondamentale eh romanzo gotico che nasce nel nord Europa protestante e quindi si parlava dell'inquisizione o per dileggiare il mondo cattolico o per renderlo più edulcorato per l'una per l'altro per addosso almeno. Poi esplode nell'ottocento. Di inquisizione scrivono Victor Hugo eh Dostoievski ovviamente eh e si può continuare fino al ventesimo secolo che è pieno di testi sull'inquisizione. Stessa cosa nell'ambito del cinema. Pensate che uno dei primi facitori di film eh Melies si chiamava ci ha dedicato eh un bel film scorsese mi pare di recente quello ambientato nella stazione di Parigi non mi ricordo. Eh neanche io non la posso aiutare. Dopo mi verrà il nome eh Hugo Cabret eh descrive la storia di Jacques Melies uno dei primi cineasti d'Europa e uno dei primi film che fa è dedicato all'inquisizione lo trovate su YouTube. Bellissimo perché a un certo punto a rogo finisce l'inquisitore invece che la strega perché Melies era era anticlericale quindi descrive un rogo di un inquisitore. Ora l'immaginario letterario saccheggia l'inquisizione lo fa sulla base spesso di fonti inquisitoriale lo fa già dal settecento basandosi per esempio sui manuali e sulle descrizioni iconografiche dell'inquisizione o anche sulle sui primi racconti di fuga dei prigionieri dell'inquisizione che in alcuni casi erano anche inventati. È un'esplosione letteraria dal seicento in poi che si lega alla cosiddetta leggenda nera dell'inquisizione spagnola che viene formalizzata dagli esuli spagnoli già nel cinquecento. Quindi il rapporto tra letteratura e fonti è molto complicato quando si parla di inquisizione è molto intrigante anche ed è legato anche a fattori politici oltre che all'immaginario vero e proprio e nell'ambito della produzione letteraria e della produzione letteraria di massa a partire dalla fine del settecento cioè il romanzo sia del teatro sia del cinema. C'è anche la pittura ma qui non ci avventuriamo su Goia e su altre rappresentazioni. La stessa cosa va tenuta presente per il nome della rosa che è certamente un passaggio quando Umberto Eco lo scrisse tendò di rendere pop diciamo così l'inquisizione cioè di costruire un perfetto marchigegno postmoderno in cui verità e linguaggio si confondessero diciamo così. Umberto Eco era un raffinato studioso tutt'altro che una persona inavvertita conosceva benissimo la teologia e i testi di cui parlava. Bernard Guy è veramente esistito e si è occupato di eliminare Catari e all'inizio del trecento fu anche il primo autore di una pratica inquisizionis o uno dei primi diciamo dei manuali per inquisitori fu Bernard Guy, Bernardo Guy come lo chiama il nome della rosa, il facitore, era un frate domenicano, esperto di diritto canonico che agì come inquisitore delegato dal pontefice all'inizio del trecento soprattutto proprio nei primi vent'anni del trecento. Quindi il personaggio è vero, è vero che i dolciniani furono sterminati dopo la morte di dolcino esattamente negli anni in cui è ambientato il nome della rosa che erano anni in cui si disputava del destino dell'aldilà dei corpi ma si disputava soprattutto della povertà se era la povertà di Cristo dovesse essere abbracciata dei francescani o meno con una divisione interna all'ordine dei frati minori che fu lacerante con accuse reciproche di eresia e in un momento in cui la figura di Guglielmo da Ockham che nel romanzo diventa Guglielmo da Baskerville in omaggio ad Arthur Conan Doyle quindi a una letteratura poliziesca a cui ammicca il postmoderno eco. Guglielmo da Ockham fu un uomo che combatte il primato pontificio, a un certo punto scrisse che i concili erano superiori al Papa e che il Papa poteva anche essere accusato di eresia da un concilio ecumenico, questo il papato non glielo perdonò di sicuro quindi il fatto che Guglielmo da Baskerville nel romanzo ricordi di aver avuto sospetti di eresia in quanto filosofo nominalista, il nominalismo era soprattutto la corrente francescana della teologia e beh non è del tutto scollato dalla realtà, quindi la fresco funziona quando Jean-Jacques Arnault fece il nome della rosa negli anni 80, io ero piccolino, lo andai a vedere al cinema quando ancora andavo al liceo, forse al ginnasio si avvalse della consulenza di una serie di storici uno piuttosto noto era Jacques Legoff che a un certo punto però mollò il set perché non andava d'accordo con Jean-Jacques Arnault, almeno così si raccontano le cronache quanto alla nuova fiction non so quanto si siano avvarsi di consulenza storica ovviamente il rapporto tra fiction e storia va vissuto sempre con una certa laicità quando si giudica un romanzo o si giudica un film va anzitutto giudicato il valore estetico o se si vuole anche quello ideologico di un testo ma non la perfetta adesione alla verità storica certamente però il nome della rosa è un testo scritto da un uomo avvertitissimo e coltissimo come era Umberto Eco e di errori ce n'è molto pochi diciamo che la descrizione può essere caricata di tinte fosche nella fase finale ma gli inquisitori venivano anche assassinati per esempio lì Bernard Ghiè, questa invece è un'invenzione, muore tragicamente ebbene gli inquisitori morti tragicamente ce ne furono tanti nel 201, poi fu chiamato Pietro Mattire divenne il simbolo dell'inquisizione, un santo con una bella accetta in testa i suoi attentatori l'avevano accoppato per strada divenne il simbolo dell'inquisizione e lo potete vedere andando a Milano nella chiesa di Sant'Eustorgio che prima di Santa Maria delle Grazie era la sede dell'inquisizione milanese dove c'è la cappella Portinari con la fresca e il sarcofago di Pietro Mattire che divenne l'emblema dell'inquisizione uno delle icone, dei loghi si direbbe oggi della storia dell'inquisizione quindi anche sul fatto che gli inquisitori fossero odiati in realtà le pagine di Eco non sono del tutto scollate dalla storia perfetto, visto che in tanti ci stanno scrivendo e chiedendo se c'è la possibilità poi di fare delle domande ma le posso fare ancora se volete o se no le facciamo alla fine se per lei va bene professore prenderei in esame le domande alla fine in modo che arriviamo tanto insomma potete pure commentare per tutti quelli che ci seguono e ovviamente sarà mia premura girare le domande al professore professore tornerei un attimo sulla riforma e ovviamente adesso prendo anche spunto dal volume che lei ha curato per la collana di storia del cristianesimo l'età moderna mi è piaciuto diciamo il concetto e vorrei magari le chiederei di spiegarcelo il concetto di lunga riforma contrapposto al concetto di contro riforma che è un po' una diciamo una cosa che nei manuali purtroppo noi studenti siamo costretti a diciamo a fare nostro ecco invece in realtà è un concetto di lunga riforma un moto di rinnovamento interno alla chiesa cattolica sì ovviamente in contrapposizione alla riforma però molto più lungo piuttosto che concentrato nel tempo quindi le giro questa domanda ecco allora io non mi attribuisco il copyright di questa di questa definizione che compare per esempio in italiano questo libro sì aspetti che lo metta in favore di Cana lo mettiamo a fuoco non l'ho scritto io ovviamente ecco The Long European Reformation si intitola in inglese la lunga età della riforma guardate questo è un manuale per gli studenti degli Stati Uniti d'America in cui viene sminuzzato che cosa era il cristianesimo questo come altri libri ne cito e ve li faccio vedere almeno un paio questo di un sacerdote gesuita Robert Byerly guardate la partizione cronologica del testo ma anche quest'altro che in italiano è tradotto con il titolo contro riforma ma in realtà si intitola il mondo del rinnovamento cattolico che compare nel sottotitolo l'autore è uno dei più grandi studiosi viventi di storia religiosa moderna Ronnie Shah come vedete anche qui la partizione la partizione un po' più tradizionale ma il concetto è rinnovamento cattolico lunga età della riforma ora io non l'ho usato perché non creda io penso che la parola contro riforma si debba usare invece è nata in funzione ideologica anticattolica nel mondo protestante i cattolici non l'hanno mai amata questa definizione ma ha una sua un suo significato una sua pregnanza cioè è difficile non vedere gli aspetti di reazione e anche di violenza nella risposta cattolica al mondo protestante ricordarci che il rinnovamento della chiesa è stato anche contro riforma cioè che ha avuto aspetti di reazione e di chiusura non va dimenticato se noi edulcoriamo la storia la facciamo diventare una specie di di campo senza conflitti io diffido di chi fa storia senza evocare i conflitti fino in fondo pacificando il passato non c'è bisogno di pacificarlo la violenza è esistita nella storia bisogna farci i conti e i conflitti sono esistiti anche se negli ultimi anni non vogliamo fare i conti con la natura conflittuale della storia per esempio in Europa dopo l'Unione Europea c'è tutta una corrente storiografica che tende ad annacquare le differenze tra aree dell'Europa perché lo fa? Per scopi nobili se si vuole cioè per fondare un'unità del continente europeo tentando di superare quella frattura che invece ha diviso profondamente l'Europa nella storia però ripeto le divisioni ci sono state quindi la categoria di contro riforma va mantenuta ho usato il termine lunga riforma non tanto perché io creda che si debba annacquare l'aspetto di rompente della fissione che non fu una fissione ma fu una circolazione delle noiosissime 95 tesi teologiche contro le indulgenze di frate Martin Lutero frate non Monaco come scrivono spesso i libri ma perché per comprendere per collocare diciamo così le trasformazioni del fatto religioso trattato medico ed età moderna prendere a soggetto solo la riforma luterana è un errore colossale gli storici negli ultimi anni per esempio insistono molto nell'inserire in questa storia tutto quello che riguarda la penisola iberica noi non capiremmo niente delle modificazioni del mondo cristiano cinquecentesco senza studiare la penisola iberica che fino a 50 anni si studiava pochissimo c'è tutto il fatto religioso quell'insieme di attese millenaristiche di conversioni forzate di introduzione di statuti protorraziali nella penisola iberica nel 400 l'invenzione dell'inquisizione l'elaborazione di una tradizione di biblisti che tentava di conciliare il cristianesimo l'ebraismo e l'islam il misticismo un altro aspetto fondamentale del cristianesimo iberico beh si può capire qualcosa del cristianesimo europeo senza questo si può capire perché per esempio il dissenso religioso italiano non fu né luterano né calvinista né anabattista né antitrinitario in maggioranza ma fu valdesiano cioè dipese dalla presenza a Napoli di un uomo che se l'era data a gambe levate dalla penisola iberica si chiamava Juan de Valdez costruì una corte intellettuale religiosa a Napoli che poi lasciò a un'erede spirituale che era il cardinale Reginald Paul e che coinvolse il valdesianesimo che non va confuso con il valdismo coinvolse le eliti italiane non è l'unico fenomeno di dissenso ma fu quello che la curia pontificia temette di più e veniva da uno spagnolo da uno spagnolo che mescolava diciamo così al dissenso religioso del nord Europa qualcosa che invece veniva dal mondo iberico la riflessione sulla Trinità la riflessione sul rapporto diretto con Dio in forma mistica diciamo così che era propria dei cosiddetti alumbrados degli illuminati che sono un'eresia tipicamente iberica si può capire la posizione della chiesa nei confronti della predicazione pubblica senza capire quanto figura come quella di Savonarola che non è l'unica inquietarono la chiesa perché la critica e l'anticlericalismo che proveniva da Francia stessa della chiesa erano un problema per la chiesa si può capire l'appello al concilio che Lutero oppone quando la curia pontificia gli dice se ti devi presentare davanti al legato papale e a Biurare e Lutero poi non lo fa ovviamente con la protezione del duca e lettore di Sassonia ma cosa fa Lutero in quel momento si appella a un concilio della chiesa perché perché il conciliarismo era stata una stagione della chiesa che precede che diciamo accompagna i primi anni del ritorno dei papi dopo Avignone a Roma e che fu una lotta squassante cioè se era superiore il concilio o il papa sarebbe stata un'altra storia della chiesa se avessero vinto i conciliaristi una storia più assembleare diciamo così meno verticale come quella che invece divenne la storia del cattodicesimo con il rafforzamento dell'autorità pontificia in età moderna insomma per capire si può capire tutta questa storia senza la mondializzazione cattolica che parte nel quattrocento pensate che negli anni ottanta del quattrocento si convertì un signore che dominava su un'area del congo si chiamava Nzingambeba venne chiamato re Afonso dopo il battesimo e abbiamo il battesimo di un congolese negli anni ottanta del quattrocento prima che la chiesa si ponga il problema di come operare nei territori coloniali per la conversione per la missione questa ossessione si può capire l'antigiudeismo moderno senza l'antigiudeismo quattrocentesco senza l'esplosione degli accuse di omicidio rituale che costellarono l'Europa del quattrocento sto facendo solo degli esempi si possono capire alcune istituzioni laicali e religiose del cinquecento compreso la compagnia di Gesù senza studiare come nacquero spesso per spinta dei laici alcune congregazioni religiose prima della predicazione di Lutero questo ci dice che siamo in un ambito in cui allargare l'orizzonte allargare lo sguardo smettere di adottare un paradigma del racconto che è un paradigma che deve molto alla storiografia ottocentesca ma anche alle controversie religiose dell'età moderna su cui si è costruita la storia baronio contro i centuriatori di Magdeburgo la storia si è raffinata anche perché si azzuffavano persino sul passato i luterami e i cattolici allora bisognava raffinare gli strumenti di analisi del passato io penso che allungare lo sguardo in questo senso ho usato il termine lunga età della riforma perché si tratta di un appello costante alla reformazio cioè al ritorno indietro a rifare il corpo della chiesa che significava guardare alla chiesa primitiva non guardare in avanti la nostra idea di futuro nasce con le rivoluzioni politiche non nasce con la riforma protestante che voleva tornare indietro tutti vogliono tornare indietro quando vogliono cambiare il mondo lo fece anche la riforma ovviamente quella con la r maiuscola perfetto continuiamo a guardare a guardare indietro professore e entriamo nel funzionamento di un processo gliene cito i quattro più famosi poi lei ci dirà se sono diciamo correttamente inseriti in questo contesto o meno ovvero lei ha fatto riferimento prima a alcuni processi io insomma qua sotto mano ho quello di Giovanna d'Arco e i nomi nome ho anche Galileo Galilei insomma diversi periodi storici però diciamo cosa ci può dire del modo di agire dell'inquisizione cosa ci possono dire la storia di questi processi poi parleremo anche insomma di altri due personaggi italiani lei ha parlato prima di Sabonarola anche insomma e Giordano Bruno ecco ma partiamo dai primi due casi che lei ha citato intanto il caso di Giovanna d'Arco è quello di una corte inquisitoriale che non è l'inquisizione in certa misura e questo vale lo vedremo anche per per Sabonarola e perché perché Jean d'Arc questa ragazzina che diciamo condizionò la fine della guerra dei cento anni e il rafforzamento dell'autorità monartica di Carlo VII era invisa agli inglesi quindi è un processo politico di Jean d'Arc gestita da un vescovo il vescovo di Beauvais con l'aiuto di una corte pensate un po' che assommò a 40 elementi c'erano anche ovviamente frati e teologi frati e teologi si potrebbe dire al soldo degli inglesi o dei borgognoni che non volevano il rafforzamento ovviamente dell'autorità monartica francese Jean d'Arc quindi fu vittima di un processo politico gestito però con le armi di un processo per eresia fu un processo sbrigativo? no fu sbrigativa la sua morte ma non il suo processo che è un processo interessante anche ed è un aspetto poco noto di tutta questa vicenda perché Giovanna d'Arco fu sottoposta costantemente a una tecnica che i teologi chiamavano discrezio spiritum di discernimento degli spiriti essendo una donna in una tradizione misogina come quella della chiesa latina ma anche di quella ortodossa si diffidava delle donne questa donna era una santa un'indemoniata o una melancolica le ipotesi erano sempre tre la discrezio spiritum il discernimento degli spiriti fu una tecnica che doveva discriminare davanti al protagonismo femminile se si era davanti appunto a una santa a una figura demoniaca o a una squilibrata diremmo oggi lo squilibrio dei quattro modi la prevalenza della bile nera la melancolia per l'appunto in greco ebbene Giovanna d'Arco quindi fu sottoposto a uno scrutinio che non era solo uno scrutinio giudiziario era anche uno scrutinio per così dire della sua potenziale santità o di smascheramento della sua finta santità poi è una cosa che farà moltissimo un'inquisizione moderna colpire i finti santi appropriarsi dei processi di canonizzazione farà anche questo l'inquisizione romana in età moderna bagliare i santi prima che lo facesse la congregazione dei riti quindi intanto bisognava bagliarla quindi è un processo che è anche un grande esercizio di discrezio spiritum di discernimento degli spiriti in cui all'atere del processo intervengono i confessori c'è tutta una dimensione extra processuale che è interessantissima nel processo di Giovanna d'Arco e che i film sono centinaia centinaia a partire da uno di Jacques Méliès che è data alla fine dell'ottocento Giovanna d'Arco appunto venne sottoposta alla discrezio spiritum e c'è tutta una dimensione extra processuale di questa storia che viene fuori anche nella grande resa filmica a partire dal film di Dreyer che è un monumento della cinematografia espressionista della prima fase del novecento la Falcone T l'attrice che incarna Giovanna d'Arco è tutta occhi e l'occhio ha un'importanza fondamentale in quel film anche come metafora del cinema si intende e quindi è una corte politica che giudica altro aspetto intrigante della storia di Giovanna d'Arco oggi soprattutto giudica Giovanna d'Arco anche come travestita questo è un aspetto tutt'altro che secondario nella storia di Giovanna d'Arco questa donna aveva preso avidi da uomo cioè aveva come dire violato un interdetto pentateutico contro il mescolamento diciamo del maschio e della femmina una storia del gender anti-litteram esattamente ma non è un aspetto secondario nel processo di Giovanna d'Arco tanto che la scusa con cui fu mandata a rogo a rogo sapete gli eretici si mandavano non alla prima caduta ma alla seconda caduta con il relapsus si diceva in latino infatti venivano chiamati relapse perché la chiesa era un istituto penitenziale l'inquisizione era anche un istituto penitenziale quindi doveva ottenere la prima volta la biura con pene minori riservando il rogo solo ai ricaduti come un bilama per cui la prima lama non taglia ma la seconda zac diciamo così una pubblicità molto vecchia ora così agiva l'inquisizione Giovanna d'Arco poi viene in realtà immediatamente la fanno abbiorare ma si rimette gli abiti da maschio e questo non è un aspetto secondario del motivo per cui fu sbrigativamente mandata a rogo dopo un processo in realtà estenuante e lunghissimo c'è poi l'uso politico di Giovanna d'Arco su cui bisognerebbe Giovanna d'Arco fu canonizzata perché lo volle la Francia insistentemente durante la prima guerra mondiale in funzione antitedesca il papato la fece diventare un'icona militare della Francia in guerra ma poi la canonizzò nel 1920 cioè due anni dopo la fine della guerra per non irritare i cattolici e le altre nazioni c'è anche un uso nazionalistico di Giovanna d'Arco che è interessantissimo e su cui non vale la pena soffermarsi in questa chiave quanto a Galileo il processo di Galileo è un processo intanto il processo di Galileo non è un solo processo anzi forse uno solo ma ci sono quattro momenti in cui Galileo ha a che fare con l'inquisizione precocemente nel 1604 quando insegnava a Padova di nuovo a Padova all'attere di un processo che abbiamo perduto perché era un processo che la Repubblica di Venezia fece in qualche modo sparire che era il processo a Cesare Cremonimi che non è il cantante luna pop ma era il più grande filosofo aristotelico dell'inizio di fine 500 in Italia Cesare Cremonimi che era legato anche a Paolo Sarpi e a Galileo era un miscredente totale e nelle carte di questa inchiesta che provocò nessun problema Cesare Cremonimi che morì normalmente nel suo letto ma vide coinvolto il giovane Galileo c'è poi una fase fiorentina di questa storia che finisce a Roma e siamo tra il 1615 e il 1616 qui il nodo comincia a essere stringente è proprio Galileo è il problema dell'elocentrismo ma è anche il problema della lettura figurale della Bibbia laddove ci siano fattori che riguardino le scienze della natura Galileo va a Roma ma nel febbraio del 1616 cosa succede? Viene inquisito? Non viene inquisito perché riceve probabilmente un'ammunizione extra processuale questa ammunizione a un certo punto viene rispolverata nel 1632 quando inizia la vera e propria causa contro Galileo quella che lo porterà ad abbiurare per volontà di Urbano VIII che si sentiva tradito e preso per i fondelli da Galileo che gli aveva pubblicato il dialogo sopra i massimi sistemi diciamo così senza obbedire a quello che Urbano VIII o Papa Barberini avrebbe voluto questa fase del 16 è la fase più oscura della causa Galileana perché questo monitorio fu un monitorio scritto combinato da quello che era una delle figure più importanti del tribunale era il commissario Michelangelo Seghizzi o questo monitorio che venne rispolverato nel 1632 era un falso su questo la discussione è tuttora aperta anche perché non è che abbiamo gli atti integrali di ciò che è successo a Galileo tutt'altro e la stessa cosa riguarda anche Bruno non abbiamo la causa contro Galileo abbiamo una serie di documenti che sono stati raccolti varie volte da laici contro la Chiesa e da ecclesiastici per rispondere all'accusa dei laici e difendere la Chiesa dall'accusa di avere soppresso la scienza soprattutto sul territorio italiano e quindi Galileo diventa anche una figura controverso ovviamente basta guardare il film di Liliana Cavani che a distanza di 50 anni è tuttora un capolavoro della cinematografia quindi il caso Galileo ha addirittura la possibilità che ci sia un documento falso che serviva in realtà a dimostrare che lui aveva disobbedito a una prima ammunizione questo era gravissimo da parte di un erettico era vero questo documento c'entra in questo documento anche il cardinale Bellarmino l'aveva ammunito privatamente o no come vedete gli aspetti probabilmente non ne avremmo mai a capo in questa faccenda ma insomma è molto intrigante e ha a che fare con un nodo fondamentale che è il rapporto tra Chiesa e Scienza ha a che fare anche con il fatto che uno storico molti anni fa si chiamava Pietro Redondi suppose invece che la causa di Galileo non fosse stata aperta per ragioni di eleoscentrismo ma perché Galileo era un atomista un atomista cioè credeva alla teoria atomistica che metteva in dubbio la transustanziazione dell'Eucaristia ma questo è un tema troppo delicato per trattarlo in due minuti certo certo e qui però è una corte inquisitoriale vera e propria intervenire nelle fasi di condanna soprattutto di Galileo anzi il supremo tribunale la congregazione romana del Sant'Ufficio che invece spostare Galileo a Roma poi siccome era protetto politicamente dal Granduca dei Medici Galileo la sfangò con una specie di isolamento poi era troppo noto per farlo fuori certo e professore scusi invece su Sabonarola e Bruno cosa possiamo dire? Sabonarola è un caso invece di processo politico vero e proprio non è lì una corte inquisitoriale a intervenire anche se il processo fu pare inquisitoriale diciamo così e mise in causa ovviamente anche dei frati francescani in Toscana erano i francescani ad occuparsi dell'inquisizione già dal Medioevo mentre in altre aree erano i Domenicani che poi si spartirono la penisola italiana diciamo proprio con un'operazione a tavolino nel Cinquecento ma il processo di Sabonarola è un processo anche quello difficilmente ricostruibile nelle sfumature che avvenne nel momento in cui si indebolì il partito politico di Sabonarola che peraltro non era fiorentino era ferrarese in viso ai magnati fiorentini cioè ai grandi guardatevi le pagine di Guicciardini che al contrario di Machiavelli aveva un disprezzo viscerale nei confronti di Sabonarola il quale voleva far pagare le tasse ai ricchi cosa terribile come vi potete immaginare alla fine del Quattrocento come alto poi era un uomo di un tale fanatismo che irritò moltissimi bruciava i quadri in piazza bruciava i gioielli delle donne i profumi insomma era un uomo intollerabile per una città mercantile che costruiva la sua ricchezza sulle merci quando Sabonarola si indebolì la signoria repubblicana diventata repubblicana ovviamente dopo la calata di Carlo VIII in Italia nel 1494 costruì una corte che lo torturò lo costrinse a una biura in cui lui ammetteva di essere un falso profeta questo gli tolse il carisma il prestigio di cui godeva su tutti i suoi seguaci molti dissero che era ovviamente frutto della violenza e dell'interpolazione dell'atto di Abbiura ma si tratta di un processo fatto da una corte spuria non inquisitoriale basato sul fondamento politico applaudito dal Papa a Roma che avrebbe voluto farlo fuori lui Savonarola per quanto aveva scritto contro Papa Borgia dicendo che era un pervertito un ladro simoniaco lussurioso incestuoso gliene disse di tutti i colori e questo ovviamente aveva irritato anche il Papa quindi diciamo la corte agì sulla base di una scomunica papale ma non era esattamente una corte inquisitoriale era una corte che regola i conti politicamente con un modo di intendere la Repubblica Fiorentina se fanno una repubblica oggi diremmo populista comunque con un fondamento carismatico che intrigava quell'uomo meraviglioso che era Niccolò Machiavelli o farne una Repubblica patrizia come avrebbe voluto il partito di Guicciardini e come poi accadde negli anni successivi quando è emersa appunto la figura di Machiavelli come segretario della Repubblica Fiorentina quindi un caso molto particolare anche questo ti sto riassumendo cose complicate in due minuti beh sì sì infatti le storie le stiamo chiedendo effettivamente di appunto di riassumere temi molto complessi e insomma capiamo ovviamente cerchiamo di anche i saponaroliani quella è un'altra storia a sé no? perché la tradizione saponaroleala continua come dissidenza nei confronti del potere medicio quando il potere medicio viene restaurato negli anni 30 del 500 e quella è una storia a sé perfetto e niente prima di lasciare spazio a qualche domanda professore le volevo fare una domanda ovviamente tornando arrivando ai nostri tempi ovviamente come sempre si fa e purtroppo la storia è anche mezzo di queste rese dei conti diciamo il mondo cattolico insomma anche il dibattito cattolico attuale deve fare in qualche modo i conti col suo passato e ovviamente in questo caso ci sono tutte le varie posizioni ovvero chi minimizza l'impatto in termini numerici insomma su gli effettivi sulle effettive vittime dell'inquisizione invece magari chi per pregiudizi anticlericali li accentua oltre quello che è la realtà quindi io le volevo chiedere da storico come possiamo orientarci in questo dibattito arrivare più possibile come vicino alla verità come diceva lei è molto difficile nella storia arrivare a una verità certa è netta però insomma quali sono le fonti su cui possiamo documentarci per avere un'idea della portata purtroppo nefasta dell'inquisizione in generale non solo romana ma in generale dunque la domanda è molto complessa intanto il più grande storico del ventesimo secolo che morì per meno anzi fascista nel 44 era un ebreo uno dei fondatori delle annale nella rivista che ha rinnovato il lavoro storico nel ventesimo secolo si chiama Mark Bloch nell'apologia della storia ci ricorda che robespieristi o anche robespieristi gli storici devono dirci anzitutto chi è Robespierre ora questo non vuol dire non avere passione vuol dire raffreddarle e soprattutto rendere il passato passato non attualizzarlo fare l'operazione contrario un buono storico non deve attualizzare il passato deve fare esattamente l'opposto deve fare un grande riso esorcistico con cui si abitua le persone al non uso ideologico del passato che è sempre nel passo perché il passato è un serbatoio di invenzioni della tradizione e di violenza che si riproduce costantemente nella storia quindi va esorcizzato bisogna fare l'operazione contraria all'attualizzazione in questo anno ovviamente era materia di conflitto nel Cinquecento i fuoriusciti con Versos Spagnoli e i protestanti costruirono la leggenda nera del tribunale soprattutto sul tribunale iberico sul tribunale spagnolo e portoghese e in materia di polemica nel dizionario di Pierre Bell che apre la modernità potremmo dire in senso proprio lo è per gli illuministi la polemica contro la persistenza dell'inquisizione è un nodo che fonda l'illuminismo europeo fu come dire diventò un'arma anche per Napoleone e Bonaparte che per esempio chiudeva i tribunali dell'inquisizione dove passava con le sue truppe che erano truppe di occupazione ma anche truppe di liberazione e lui voleva essere anche un liberatore lo sarà nell'Ottocento quando si inizia la storiografia perché è ancora una storiografia fortemente marcata dalla controversia tra protestantesimo il cattolicesimo i cattolici hanno sempre difeso hanno fatto l'apologia di questo tribunale lo fecero già dal 1598 quando l'inquisitore di Palermo che era però spagnolo si chiamava Luis de Paramo scrisse la prima storia dell'inquisizione e da dove partiva la storia dell'inquisizione non come ho fatto io dal 1200 no? partiva dal 200 partiva da Adam e Deva Dio era il primo inquisitore quando aveva chiesto cosa avevano combinato nell'Eden Adam e Deva e poi quando chiede a Caino dove è tuo fratello quindi il primo inquisitore è Dio poi ce ne sono molti altri insomma è Dio il fondatore dell'inquisizione ideologicamente per gli inquisitori cioè è un mandato sacro che difende il corpo della chiesa dai suoi nemici nel 700 si spreca non è mai stata fatta un libro dedicato solo a questo cioè alla rivendicazione ideologica dell'istituto inquisitoriale nel 700 ma se guardate i testi antilluministici scritti spesso da persone tutt'altro che Rose del cattolicesimo italiano e spagnolo la difesa del tribunale è una difesa tutt'altro che secondaria l'inquisizione spagnola ci mise 50 anni a morire la resuscitarono tre volte e poi morì nel 1834 ma il franchismo che è una forma di clerico che è un regime clerico-reazionario più che un regime fascista era l'erete dell'inquisizione lo disse chiaramente ideologicamente era la nuova inquisizione contro i nuovi eretici chi erano gli eretici? gli repubblicani gli anarchici i socialisti i comunisti i libertini i massoni gli ebrei sempre loro ora non ha mai smesso di essere un oggetto di polemica l'inquisizione gli apologeti dell'inquisizione esistono tutt'oggi bisogna guardarsene scrivono libretti vi citerei qualche nome ma non ve lo risparmio semplicemente perché non è neanche il caso che l'ho leggato alcuni anni fa ne impazzava uno che ha il cognome di un simpatico facitore di romanzi polizieschi siciliano appena morto ecco quella è spazzatura non vanno letti sono apologie di un fronte reazionario interno alla chiesa che tuttora ha nostalgia dell'inquisizione la nostalgia dell'inquisizione la nostalgia dell'autorità in un mondo come il nostro che ha un bisogno disperato non di autoritarismo ma di punti fermi può portare anche ad aberrazioni di questo tipo ci sono state aberrazioni del fronte anticattolico ma certamente sì per esempio si sono gonfiate le cifre delle vittime dell'inquisizione storicamente oggi abbiamo conteggi ne ha fatto uno di recente Andrea Delcol nella sua storia dell'inquisizione in Italia negli anni 80 si tentò addirittura un conteggio di quella spagnola che fu la più feroce oddio anche quella portoghese nel seicento non scherzò insomma quello che intendo dire è che se parliamo di morti si trattò di decine di migliaia di vittime nella penisola iberica di qualche migliaio di vittime nella penisola italiana di quanti nel medioevo è difficile dire bisogna vedere se calcoliamo anche la caccia alle streghe come qualcosa che ascriviamo all'inquisizione non era così perché i processi contro la stregoneria soprattutto in età moderna non furono in larga parte processi delle inquisizioni né spagnola né portoghese né romana mentre lo furono nel tardo medioevo e nel primo cinquecento stiamo parlando di qualche decina di migliaia di vittime ma se si giudica diciamo questo tribunale ammesso che io non sto pronunciando una sentenza perché non sono un giudice sono uno storico se badassimo alle vittime o a questo tipo di violenza cioè le condanne a morte non capiremmo nulla di questo l'inquisizione è qualcosa di molto più complesso intanto è una macchina che produce violenza e costrizione al di là delle condanne a morte lo fa infliggendo la confisca dei beni lo fa infliggendo l'infania oggi voi direte ma che cosa era l'infania era una pronuncia giuridica che impediva per esempio fino alla quarta generazione come diceva il pentateuco perché si colpivano anche gli innocenti nella struttura penale dell'inquisizione anche la confisca colpiva gli eredi si colpiva con l'infamia che rendeva inabile alle cariche ecclesiastiche alle cariche politiche e soprattutto che isolava dalla comunità che era eminentemente una comunità cristiana fino alla secolarizzazione settecentesca la scomunica isolava la dichiarazione di infamia isolava distruggeva famiglie l'indito alla delazione l'altro aspetto importante della storia dell'inquisizione sono i meccanismi di delazione l'editto dell'inquisizione imponeva di presentarsi e di denunciare chiunque anche il proprio padre la propria madre i propri figli anche se il crimine fosse occulto al magistrato ed era un precetto religioso a cui si accompagnava la scomunica anche in questo caso cioè la coercizione a dire l'imputato anche quando non ne fosse convinto era costretto a ritrattare in alcuni casi lo faceva perché si pentiva ma perché era costretto anche a pentirsi era un'umiliazione di quella che oggi noi chiamiamo libertà di pensiero un termine inconcepibile ancora all'altezza diciamo della prima età moderna tutto questo va valutato dall'inquisizione va valutato il modo con cui ha condizionato la storia della chiesa nel cinquecento la storia della chiesa è andata in una direzione invece che in un'altra perché un signore che si chiamava Gianpietro Carafa divenne papa perché inquisitore e lo seguì poi Pio V Michele Antonio Visgliere che la chiesa ha dichiarato santo che hanno condizionato la storia della chiesa facendola andare in una certa direzione umiliando anche la possibilità di un dibattito teologico più libero dentro la chiesa meno asfittico di come poi invece la congregazione del sant'uffizio vedete la congregazione del sant'uffizio dall'età moderna in poi diventa un tribunale dell'ortodossia e dell'ortoprassi stabilisce cos'è la dottrina non lo stabiliscono più i concili dal cinquecento in poi cos'è la dottrina non stabilisce il sant'uffizio e può minacciare persino il papa di eresia lo ha fatto anche fino a qualche mese fa la congregazione per la dottrina della fede cioè l'erede del sant'uffizio cosa ha fatto? ha fatto circolare un foglio in cui c'erano alcune accuse di eresia alcune insinuazioni di eresia nei confronti di Bergoglio perché non piace a una certa ala della chiesa l'inquisizione ha fatto regolare conti conti è stato un tribunale con cui il clero ha regolato i conti al proprio interno è stato un tribunale che in qualche modo ha coperto ha anche ha indagato sulla sessualità e sulle scelte individuali anche mentre ha coperto alcuni di quelli che oggi riteniamo crimini insopportabili del clero gli abusi nei confronti dell'infanzia per esempio insomma è una materia molto più vasta della semplice controversia tra protestanti e cattolici e persino più vasta di quella pagina nera della storia del cristianesimo che è l'antigiudaismo e l'eredità che ha lasciato anche all'antisemitismo ma se volete anche dell'islamofobia perché anche questo si accompagna alle operazioni dell'inquisizione quindi come vedete e poi c'è la coercizione esercitata nei territori del nuovo mondo nei confronti dei riti degli indigeni e potremmo continuare cioè se noi dobbiamo giudicare l'inquisizione la dobbiamo giudicare globalmente per gli effetti che ha avuto dentro la chiesa nel condizionarla per gli effetti che ha avuto nell'Europa occidentale cattolica per gli effetti di polemica che ha innescato nel mondo protestante per il modo in cui ha limitato soprattutto nell'Italia della tarda età moderna il dibattito scientifico quando la penisola italiana era tutt'altro che arretrata all'inizio del seicento nel dibattito scientifico tutt'altro cioè Galilei non era una figura unica ora su questo si può attenuare l'impatto dell'inquisizione ovviamente nell'aver limitato la libertà dell'indagine scientifica ma se in Italia si faceva più biologia che astronomia nel settecento beh una spia questo qualcosa ci deve dire quella era una materia che era meglio non toccare no? la poteva toccare Newton ma meglio che non toccarla in Italia almeno fino al papato di Prospero Lambertini di Benedetto XIV e allora cosa facevano in Italia? facevano i biologi e anche la biologia però divenne una materia dell'inquisizione lo divenne l'aborto lo divennero alcune cose che oggi noi ascriviamo alla storia della limitazione della libertà delle donne nei confronti del loro corpo anche su questo ha inciso ovviamente l'inquisizione e potremmo continuare voglio dire che tra la leggenda rosa e la leggenda nera esiste il tasso di violenza che noi possiamo misurare non ergendoci a cultori di una verità senza discussione perché la storia non ha a viscia la verità e pretende di raggiungerla ma non come una disciplina esatta noi non siamo scienziati come direbbe Carlo Ginzburg siamo piuttosto medici andiamo per tracce per indizi però sono indizi che hanno bisogno di prove cioè quando Lorenzo Dalla analizza il falso costituto di Costantino cosa fa? usa la filologia usa i mezzi che gli storici possono che non sono le indagini in laboratorio ma sono certamente quel modo con cui ci contrapponiamo sempre attraverso prove e controprove quindi le proprie passioni bisogna come dire averle senza una passione non si diventa storici di qualche tipo forse a volte anche senza un problema personale però però certamente c'è anche il modo con cui questo deve essere filtrato raffreddato e deve diventare indagine deve diventare indagine che però quando prende in mano episodi in cui esiste la violenza non deve reagire moralisticamente perché la violenza anche i protestanti erano violenti anche i cinesi sono stati violenti anche gli islamici sono stati violenti anche gli ebrei sono stati violenti non è questo il problema è che bisogna però non cancellare il tasso di violenza di questa storia ecco bisogna affermare bisogna essere scevri da passioni ma non fino al punto da cancellare come dire una storia che è comunque costellata di violenza e di costrizioni per migliaia di persone perché le persone inquisite non quelle mandate a rogo furono decine di migliaia nella storia delle inquisizioni quindi è un diciamo tornare fare i conti col passato in maniera sana col proprio passato in maniera sana in maniera come dire sine iraq studio si direbbe il latino senza troppa passione ma con una precisa posizione che deve essere anche la difesa di ciò che abbiamo conquistando cangelando la inquisizione non tenendola in piedi certo quindi lei diciamo professore mi ha risposto in maniera implicita all'ultima domanda che l'avrei fatto ovvero è lecito ritenere ancora vivi i valori e diciamo i fondamenti ideologici dell'inquisizione ma lei di fatto mi ha già risposto diciamo c'è qualcuno che mi rivendica tuttora peraltro l'istituto dell'inquisizione è stato riformato la storia dell'abolizione delle inquisizioni in quanto tribunali con efficacia giurisdizionale su un territorio è una storia complicatissima perché non c'è un libro che la descriva globalmente questo è molto interessante perché il settecento è meno studiato di altri secoli nell'inquisizione o relativamente meno studiato certamente in Portogallo ha una storia precisa era un'istituzione monarchica l'inquisizione portoghese sarà il marchese di Pombal il marchese del dispotismo illuminato portoghese l'uomo che cacciò per primo la compagnia di Gesù ad avere in qualche modo spuntato le unghie dell'inquisizione di fatto lasciandola morire nel mondo portoghese l'abolizione spagnola come vi ripeto sono tre le abolizioni dell'inquisizione spagnola e l'ultima che la seppendisce definitivamente addirittura data al 1830 quella romana è più complicata perché l'Italia era un arlechino non era una monarchia territoriale unica e quindi è il Piemonte il primo sostanzialmente a cominciare a far morire gli istituti dell'inquisizione a partire addirittura dal 1698 poi ci sono i territori borbonici poi la Sicilia e la Sardegna hanno una storia se nella Repubblica di Venezia bisogna attendere il Trattato di Campoformio nello Stato Pontificio l'arrivo di Napoleone ma i tribunali dell'inquisizione vedete bene vennero restaurati alla caduta di Napoleone pensate che fu la breccia di Portapia ad abolirli non nelle Marche nell'Umbria dove l'abolizione ovviamente fu già nel 1861 ma o prima ancora in Romagna in Emilia ma nel Lazio sì l'efficacia dell'inquisizione cessa con la breccia di Portapia e pensate che c'erano ancora persone che continuavano a inquisire anche dopo la breccia di Portapia e mandavano carte a Roma perché muoiono i tribunali territoriali e dopo il 1814 salvo lo Stato Pontificio muore l'efficacia effettiva dell'efficacia come dire di infliggere pene corporali dell'inquisizione l'inquisizione diventa una congregazione come sempre è stata la più potente congregazione della Curia Romana ma questa congregazione poi agisce colpendo i modernisti alla fine dell'Ottocento soprattutto il socialismo il liberalismo la massoneria tutti i nemici veri o presunti della Chiesa e nel momento in cui attacca i modernisti nel 1908 viene ristrutturata da Pio X nel 1917 incorpora la congregazione dell'indice quindi continua a emanare gli indici che dal 1500 in poi erano dal 1570 in poi 72 in poi erano materia di questa congregazione parallela che era la congregazione dell'indice e poi arriva il Concilio Vaticano II e il povero Paolo VI dice ma che cos'è sto reperto del passato riesce ad abolirlo non lo abolisce lo rinomina si chiama congregazione per la dottrina della fede e elabora lo addottrina e l'ortoprassi cattoliche tuttora e negli anni del papato Ivoitila di condanne ne ha emanate a bizzeffe dalla teologia della liberazione in America Latina ma anche un condanne sul lato destro non solo sul lato sinistro diciamo della teologia della pastorale cattolica oggi cos'è quest'istituto ha qualche efficacia davanti a una chiesa difficile da disciplinare con un clero che si sta estinguendo letteralmente nel mondo occidentale vedremo che sorte avrà ma la congregazione per la dottrina della fede esiste ancora ed è l'erede degli archivi centrali dell'inquisizione poi esistono gli archivi territoriali e qui sarebbe lungo descrivervi dove stanno dove sono disseminati in Italia ci sono gli archivi dell'inquisizione spagnola anche questi molto disseminati ma il grosso sta a Madrid e ci sono i ricchissimi archivi dell'inquisizione portoghese ci sono i documenti a stampa che significano i documenti normativi dalle bolle papali mediali in poi la tradizione la tradizione dei manuali per inquisitori prima manoscritti e poi a stampa dai primi incunaboli di fine 400 fino all'esplosione dei manuali per inquisitori ce ne sono dozzine in età maverna e uno fu scritto in volgare l'ho scritto un frate che si chiamava Eliseo Masini si chiamava Sacro Arsenale vedete sempre il linguaggio bellico fortalizio un fidei Sacro Arsenale ci siamo un'idea militare di questo tribunale per ricollegarci a dove eravamo partiti ci sono le fonti controversistiche esistono vari tipi di fonte poi inquisitoriali i decreti della congregazione del santo uffizio gli editti le lettere circolari i processi veri e propri le fonti iconografiche le fonti letterarie le fonti teologiche quelle giuridiche quelle materiali quelle ancora non le abbiamo cominciate a sondare ma sarebbe interessante fare anche questo lei sedi vi ho citato prima Sant'Eustorgio a Milano una delle più belle chiese di Milano ma sapete dove stava l'inquisizione a Firenze a Santa Croce stava pensate un po' e possiamo continuare dove stava a Bologna a San Domenico una delle più belle chiese dove tuttora esistono carte per esempio il convento di San Domenico di Bologna che era il più importante uno dei più importanti dell'Europa e il più importante del nord Italia e c'è l'arca di San Domenico qui a Bologna quindi mica roba da poco le reliquie dei santi come sapete nella tradizione cristiana contano moltissimo se andate nell'archivio del convento di San Domenico c'è un sacco di documenti di inquisizione per fare la prosopografia degli inquisitori prima si attingeva più al convento di San Domenico che all'archivio centrale del Sant'Uffizio che è stato aperto da Carol Boitila solo nel 2000 quindi quelle carte non le conoscevamo e sono carte profondamente dimezzate più che dimezzate prima dalle spoliazioni napoleoniche poi dal fatto che fecero fuori una serie di carte durante la Repubblica Romana perché avevano paura dei mazziniani poi ne fecero fuori nel 1870 in occasione della breccia di Portapia poi nel 1914 perché si temeva che la guerra mondiale portasse a una nuova invasione di Roma le carte che abbiamo non sono tutte quelle che ha prodotto il Tribunale ma non è tanto ovviamente la completezza di una serie documentaria a stabilire se si può fare un'analisi storica o no e la capacità dello storico di prendere in mano quelle fonti e saperle connettere sapete la storia dell'Inquisizione si faceva anche prima che aprissero l'archivio del Sant'Uffizio Romano prima del 2000 e si faceva in maniera più complicata e la storia si faceva anche prima dell'esistenza di internet quando i documenti non erano digitalizzati neppure le fonti a stampa e si faceva lo stesso si faceva in maniera più artigianale ma si faceva perfetto professore io le girerei qualche domanda chiedo a a chi ci commenta insomma a chi scrive di condensare possibilmente in un unico commento così è più facile anche individuare perché insomma le domande sono parecchie le giro questa prima domanda che la metto qua in insomma in sovrapposizione video nel regno di Napoli nel 1947 le rivolte certo quella è una è una storia molto allora la storia dell'inquisizione nel regno di Napoli beh qui no allora distinguiamo il potere aragonese sui regni di Napoli Sicilia e Sardegna nell'ambito dell'inquisizione ebbero tre storie diverse nel senso che la Sicilia e la Sardegna rimasero sotto l'inquisizione aragonese quindi c'erano inquisitori nominati da Madrid da Madrid dopo il 1560 dalla corte spagnola diciamo perché Madrid divenne capitale solo nel 1560 prima era un borgo di poche anime e bene quindi in Sicilia in Sardegna gli inquisitori e la Sicilia mal tollerò tra l'altro l'arrivo dell'inquisizione spagnola e hanno una storia a sé e gli archivi guardate bene non sono a Roma sono in Spagna se uno vuole studiare l'inquisizione a Palermo a Siracusa l'inquisizione era unico ma poi c'erano come dire dei vicari dell'inquisizione e beh deve andare in Spagna per studiarla perché quello che c'era a Palermo per esempio venne fatto un rogo quando l'inquisizione palermitana cioè siciliana fu abolita nel 1782 il vicere di Sicilia fece un bel si chiamava Caracciolo fece un bel rogo in piazza e bruciò le carte dell'inquisizione pensate che che cosa terribile avremmo un sacco di documenti peraltro la sede del rettorato dell'università di Palermo era la sede dell'inquisizione se c'è andata ci sono i graffiti dei prigionieri che sono stati restaurati con un progetto meraviglioso perché una delle fonti dell'inquisizione sono anche i graffiti e i disegni fatti nelle celle anche questo è una possibilità di fare storia dell'inquisizione e la si fa altra storia è il regno di Napoli perché cosa successe nel regno di Napoli cioè nel sud peninsulare ci fu una prima rivolta nel 1509 cioè si provò quando Ferdinando d'Aragona provò diciamo così a sondare il terreno la reazione fu una prima rivoltuzza diciamo così nel 1509 contro l'inquisizione al modo di Spagna si diceva poi in età moderna cioè quella cattiva quella crotella davvero nel 1547 ci fu un secondo episodio che è quello che richiamava il signore che mi ha fatto la domanda che è il più interessante di tutti poi ce ne sarà un terzo nel 1564 che viene poco ricordato ma è importantissimo anche questo perché qui l'inquisizione romana era nata era nata da cinque anni e allora la rivolta contro l'inquisizione spagnola al modo di Spagna fu in qualche modo una cosa che fece il gioco dell'inquisizione romana perché l'inquisizione romana non voleva che la giurisdizione spagnola in materia di fede arrivasse fino al Garigliano fino alla fortezza di Gaeta fino al confine con lo stato pontificio allora la rivolta fece il gioco di Roma per cui si arrivò pari e patta per alcuni anni a stabilire che nel regno di Napoli dovevano essere i vescovi ad agire come inquisitori secondo la tradizione canonistica la realtà fu diversa perché con il terzo passaggio del 1564 e diciamo tra gli anni 50 e 60 ricordiamoci che Gian Pietro Carafa era un nobile napoletano i palazzi dei Carafa a Napoli si spregano uno a Spaccanapoli per l'appunto e cosa fa Roma adotta una strategia che è quella di arruolare i vescovi guardate bene nel sud Italia nel sud Italia peninsulare i vescovati erano minuscole c'è la micrologia episcopale nel sud Italia cioè una diocesi francese era una roba ricchissima enorme le diocesi invece nel meridione erano pulviscolari perché il meridione era feudo del papato secondo una certa dottrina e quindi ci si riversava anche il clero di Curia insomma diventavano vescovi nel sud Italia i vescovi venivano arruolati quindi agivano come vescovi giudici e come vescovi inquisitori tanto che a Roma nell'archivio centrale del Santo Uffizio troverete non la serie degli inquisitori del vice reame di Napoli ma la serie dei vescovi del vice reame di Napoli che mandavano lettere alla congregazione del Santo Uffizio e agivano come giudici poi c'era un ministro che in genere era il vice arcivescovo di Napoli il vicario non era una regola ma lo fu quasi che agiva come una sorta di ministro plenipotenziario dell'inquisizione occulto non si doveva sapere che c'era perché come rivendicavano i nobili napoletani alla città di Napoli mica c'era l'inquisizione nel sud Italia ed era falso perché l'inquisizione era l'inquisizione romana da Napoli fino alla Calabria e alla Puglia ma non agiva direttamente non aveva distretti erano i vescovi e non i frati domenicani e francescani che corrispondevano con Roma attraverso a volte la mediazione o del nunzio apostolico di Napoli o del ministro dell'inquisizione che poi suscitò una polemica enorme dopo la metà del Seicento tanto che a un certo punto non si potesse più nominarlo il ministro dell'inquisizione a Napoli il tribunale poi sarebbe stato profondamente attaccato nell'epoca borbonica fu praticamente ridotto si tentò di evitare che i vescovi agissero come gli inquisitori con un controllo politico molto forte che fu anche il controllo della censura libraria che fu la prima materia a passare in mano ai tribunali secolari nel XVIII secolo non so se le ho risposto però se non le ho risposto me lo dica si tanto vediamo i commenti in tempo poi ci sono molte fonti su questa rivolta del 1547 e molti studi a partire anche da pagine di Benedetto Croce perfetto le giro questa altra domanda che la metto sempre in sovrapposizione a proposito dell'inquisizione romana Pomboni Algeri è uscito adesso ma non l'ho ancora letto un libro che lo qualifica come una specie di libero studiato è appena uscito un libro per la terza non l'ho ancora letto le confesso Pomboni Algeri era una figura studiata appunto da Carlo De Frede che cos'erano sapete la nozione di eresia è stata allargata in tutte le salse nella storia della tradizione teologica vi faccio un esempio poi arriviamo anche di questo mi sono occupato io anche personalmente di alcuni di questi nodi la Suma Teologia di Tommaso d'Aquino prendete la Suma Teologia è divisa in quattro parti prima prima seconda 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 terzia prendete le questiones 92-99 della seconda seconda lezioni teologiche erano questioni domanda tesi antitesi sintesi così si faceva lezioni di teologia di medicina e di diritto che la faccio rosa nelle università tardo-medievali e moderne la question lì è la stregoneria la domanda è che cos'è la superstizione e lì per esempio Tommaso fa un'operazione particolare dice insomma intanto c'è il patto col demonio non se lo inventò lui che esistesse il patto col demonio era una tradizione lunga di sei secoli ma Tommaso fece un'operazione in più disse che ogni comportamento giudicato superstizioso era di per sé aveva alle spalle il patto con il diavolo non esplicito il chirografo col sangue che poi diventerà il mito faustiano ma è implicito perché un comportamento è di per sé un'eresia ora valeva per la superstizione valeva per le pratiche sessuali la chiesa equiparò a dissenso religioso anche il violare tra virgolette la natura e allora commettere il peccato contro natura come l'aveva definito Sant'Agostino cioè avere una sessualità non riproduttiva tra uomo e uomo tra donna e donna dell'uomo con la donna nel bassi indebitum cioè nel canale sbagliato averlo con gli animali averlo in forma masturbativa persino la mollizies si diceva in latino cioè quello che poi si chiamerà l'onanismo dall'ottocento in poi con una figura biblica onan che viene usata come Sodoma e Gomorra e come altre figure di questo genere la distruzione di Sodoma e Gomorra per giustificare che cosa perché vi sto evocando tutto questo mondo per dirvi che l'eresia non esisteva la parola dissenso la uso io perché non mi piace il termine eresia che è un termine degli inquisitori dei teologi io uso o eterodossia o dissenso religioso oppure metto eresia tra virgolette quando posso a volte scappa agli storici di non farlo di non virgolettare non segnalare che uno non ha la stessa mentalità di chi studia ma di fatto il dissenso era un dissenso anche comportamentale poteva essere una forma di anomia per esempio un comportamento strano socialmente che poteva avere dietro il dissenso poteva essere eresia anche dire per esempio che un ebreo e un islamico si salvavano nella loro fede fu assimilata totalmente all'eresia l'omosessualità in Aragona in Portogallo in età moderna e nei territori del nuovo mondo l'inquisizione romana non lo fece ma il sospetto era sempre che un certo comportamento fosse di per sé eresia e l'eresia era la parola con cui si bollava anche il dissenso politico pensate che i carbonari furono ritenuti eretici nell'ottocento lo erano perché erano tutti non cattolici beh una gran parte di loro sì erano affiliati soprattutto a un'organizzazione che la chiesa cattolica non piacque che era la massoneria che nacque nel settecento ma molte il dissenso politico di per sé è un'eresia sapete l'ultima grande eresia condannata dalla chiesa è il comunismo nel secondo dopoguerra quando in Italia il partito comunista assunse l'egemonia delle classi popolari e il santo ufficio ha pronunciato la scomunica contro l'attesione alle organizzazioni comuniste che vedete bene non è stata mai rimossa cioè sfiora il ridicolo e il mantenimento ovviamente di una condanna a fronte di organizzazioni ovviamente dopo negli ultimi trent'anni del tutto indebolite o sparite insomma quindi cioè siamo davanti a un tribunale che guardate il sillabo di Pio IX la definizione di ciò che è eresia è pastissima non so se ho risposto alla sua domanda ma credo che andasse in questa direzione non riguardava solo il caso di Pomponi Algeri su cui vi dicevo è appena uscito un libro di La Terza non mi ricordo l'autore ma è in libreria in questo momento non so se sia un buon libro e non l'ho ancora letto perfetto tanto l'ascoltatore che ha fatto la prima domanda la ringrazia della risposta l'ascoltatore che ha fatto questa domanda aggiunge questa ulteriore curiosità purtroppo non vediamo tutta la domanda comunque penso che il senso si capisca dice il processo di Savonarola si può definire un vero e proprio attentato al diritto canonico e poi fa una citazione ha citato la detta Casuale Villare ok quindi giro a lei questa curiosità ulteriore curiosità e qui stiamo entrando nel tecnico fu un attentato al diritto canonico anche per una semplice cosa che non era così consueta cioè che gli atti della causa contro Savonarola vennero fatti circolare questo sembrerà una sciocchezza ma sapete cosa distingue il diritto postilluminista da quello preilluminista il segreto è il pubblico le procedure dell'inquisizione e in genere le procedure del diritto canonico sono tuttora procedure segrete per evitare l'infamia si dice adesso dopo la codificazione nuova del diritto canonico l'inquisizione faceva giurare del servando secreto mica si diffondevano notizie sul processo voi direte ma la sentenza si leggeva in piazza non ovunque per esempio l'inquisizione romana non lo fece in età moderna non lo faceva quasi mai perché se tu leggevi l'eresia in pubblico qualcuno la imitava e quindi era un veicolo di possibile diffusione del dissenso men che meno si potevano pubblicare gli atti dell'inquisizione questo non era possibile cioè si rischiava la scomunica quindi è un attentato al diritto canonico sì perché è un processo del tutto anomalo in cui il tasso di violenza enorme probabilmente fu manipolata la biura di Savonarola quello che disse ovviamente fu manipolato perché la corte era una corte spuria ripeto non precisamente né una corte ecclesiastica né una corte politica perché era un processo politico al di là dello smascherarlo come un falso profeta di fondo fu un processo politico quindi sì si può ritenere un attentato anche al diritto canonico certamente fu una forzatura politica ma sapete la giustizia interviene nei momenti di crisi pensate a Tangentopoli in Italia quando un sistema si indebolisce la giustizia apre processi cioè l'uso politico della giustizia è una storia lunghissima aggiunge il nostro ascoltatore che è il libro di Umberto Vincenti dice di averlo letto Umberto Vincenti bravissimo bravissimo è l'ascoltatore che è bravissimo Umberto Vincenti l'autore si chiama Umberto ce l'ho di là ma non l'ho ancora letto lo devo recensire mi ero ripromesso di leggerlo in questi giorni sto finendo un altro libro e non ho avuto tempo di farlo oltre a fare lezioni per gli studenti professore siamo arrivati alla conclusione di questa nostra schiaccherata ovviamente l'abbiamo tenuta più del previsto però insomma è stato davvero un piacere e insomma penso che l'intervento sia anche stato apprezzato dai nostri ascoltatori quindi la ringraziamo del suo tempo della sua rispondibilità della sua competenza insomma come lei ho già detto all'inizio è stato è stato un piacere è un onore insomma ospitarla e ovviamente a nome della pagina e a nome anche di insomma di tutti i nostri ascoltatori qualora avesse voglia e piacere di ritornare sui nostri modesti canali noi siamo più che più che contenti non mi pare non mi pare che siano modesti avete un largo seguito quindi modesto modesto e modesta è il canale di circolazione degli articoli scientifici di ciò che facciamo all'università quello è davvero modesto cioè parliamo a un pubblico di studiosi che nel mondo può assommare a 3-400 persone quando si entra nel tecnico ovviamente comunque la invito ufficialmente nuovamente quando vuole quando ha magari qualche pubblicazione appena avremmo qualche sto finendo un libro sulla pedofilia ecclesiastica quello è un tema veramente molto caldo magari ne riparliamo un po' prima eh perché no perché no anzi vediamo se riesco a consegnarlo non è solo mio è mio è di un collega che si chiama Francesco Benigno un brevissimo storico non è un libro scandalistico tutt'altro dovrebbe uscire per la terza questa primavera se tutto va bene noi ci prenotiamo noi ci prenotiamo ovviamente perfetto e insomma la ringraziamo nuovamente ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito che sono intervenuti che ci hanno fatto delle domande insomma arrivederci a presto sui nostri canali grazie mille per l'invito buona serata a tutti e mi raccomando stiamo attenti con la pandemia esatto buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti